cari amici sono in fase di pre registrazione quasi ordi andare a dormire oggi sto facendo l'extra ma perché domani mattina diciamo che c'è un po da fare anche se un video domani mattina esce prima mattina allora parliamo del massimo campionato che ha detto di calcio di serie a prima giornata la nuova stagione aprirà i battendita oggi che sto pre registrando di giovedì 17 settembre quindi tra un giorno se teniamo conto della data di video reso pubblico sul mio canale allora quindi a partire da sabato 19 avremo i due classici anticipi alle 18 fiorentina torino alle 20 e 45 verona roma ovviamente gli orari essendo la stagione stravolta sia quella finita che quella nuova che sta per incominciare si partirà direttamente con orari quelli classici quindi oltre appunto i primi due anticipi del sabato la domenica avremo parma napoli lancio mezzo alle 12 e 30 genova crotone alle 15 sassa e vabbè sassuolo cagliari ore 18 juventus sampo doria posticipo dalla domenica 0 le 20 e 45 montenette milan bologna quindi lunedì 21 alle ore 20 e 45 scusate ma detto è stata una giornata oggi un po pesante quindi succede a volte di mangiarsi le parole essere dislessici quindi dopo questo video sempre in pre registrazione arriverà anche il video sulla primavera sulla primavera uno che inizierà sempre riferimento a data di pubblicazione del video oggi venerdì quindi buonasera a tutti magari senza ricapitolare le orari ribadiamo le partite fiorentina torino verona roma parma napoli genova crotone sassuolo cagliari juventus sampo doria milan bologna beh ci vediamo col prossimo video che però ricordo questo il prossimo che sto registrando ora prima di andare a letto saranno disponibili in data 18 settembre grazie a tutta la prossima ciao